Salve a tutti e benvenuti ad una nuova lezione. Vi ricordo che tutte le mie lezioni, articoli e altre ancora sono disponibili sul mio blog didatticainnovativa.com sul quale potete trovare anche il collegamento al mio canale YouTube per iscrivervi, nonché alla mia pagina Facebook Didattica Innovativa Prof. Reddolor. Mettete un mi piace per restare aggiornati. Buona lezione! 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 Buona les T-Ref! Buona lezione! Buona lezione! Buona lezione! perché nel romanzo picaresco si racconta una serie di avventure capitate a un solo personaggio e si descrive una realtà umile e quotidiana spesso con risvolti comici ma in realtà il Don Quixote è molto più complesso di questo tant'è vero che è considerato uno dei primi romanzi moderni ed è sicuramente una parodia del genere cavalleresco che tocca anche punte tragiche perché il Don Quixote può essere considerato anche un vero e proprio eroe tra l'altro è un romanzo in cui la letteratura è protagonista tant'è vero che Cervantes trova questo espediente meta-letterario del manoscritto trovato ossia che lui non ha fatto altro che tradurre un testo già scritto tradurre dall'arabo espediente insomma molto famoso nella letteratura abbiamo detto che ci sono due parti del Don Quixote la prima esce nel 1605 e parla delle prime due uscite dal paese di Don Quixote è ambientato per lo più nella campagna della Mancia questa prima parte e si conclude con il ritorno a casa nella seconda parte pubblicata dopo che era uscita una seconda parte apocrifa del Don Quixote da parte di un altro autore quindi Cervantes si risente un po' di questa cosa e pubblica una seconda parte ufficiale nel 1615 in cui si narra della terza uscita di Don Quixote dal paese che arriva fino a Barcellona e fino ad assistere a una battaglia navale si conclude con la sconfitta da parte del Cavaliere della Biancaluna il ritorno a casa e infine la morte del protagonista del Don Quixote sono famosissimi i personaggi secondari tra i compaesani che cercano di farlo rinsavire la contadina Aldonza Lorenzo che Don Quixote ribattezza in Dulcinea del Toboso la sua donna amata e ne fa una principessa nella sua immaginazione nonché il cavallo ronzinante e sicuramente il più famoso di questi personaggi è riduttivo a definirlo secondario è lo scudiero Sancho Panza una sorta di alter ego del Don Quixote e diciamo è la controparte razionale di Don Quixote infatti non possiamo definirlo come il solito contadino sciocco ignorante non ha affatto un tipo fisso Sancho Panza ma è un personaggio che ha una personalità molto complessa e che si evolve durante il corso della narrazione ricapitoliamo dunque quali sono i temi del romanzo sicuramente l'intento dell'autore di Cervantes è quello di ridicolizzare la cavalleria e il mondo cavalleresco quei valori non sono più possibili nel Cinquecento di certo lo fa con una grande teatralità seguendo l'ideale del mondo dello spettacolo che deriva come abbiamo visto in epoca barocca anche dalla delusione di fronte alla realtà in cui ci si trova una realtà privata dei valori che invece caratterizzavano il mondo rinascimentale ed infatti il romanzo è sicuramente portavoce della crisi del rinascimento e dell'inizio del barocco emerge con grande forza il concetto di individualità anche se sfocia nel Don Quixote nella follia, una follia di non poter accettare una realtà così misera vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione